Buongiorno è un amico dell'associazione e noi abbiamo anche a suo tempo il segnito della targa del Big One per cui è veramente uno a cui teniamo e ci fa piacere che sia qui speriamo che vi divertiate e buona serata Grazie La batteria è il signor Angelo Mato Grazie 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 Grazie